Sono ancora da chiarire i contorni dell'atto intimidatorio che si è registrato a Naro nei giorni scorsi. Un episodio che è ancora a carico di gnoti, i quali, secondo una prima ricostruzione, si sono introdotti in un terreno agricolo di Contrada Grazia, a Naro. Dopo aver tagliato i tiranti in ferro, hanno praticamente abbattuto circa 5.000 piante di vite, causando al proprietario dell'appezzamento un danno da almeno 20.000 euro. Ed è stato lo stesso proprietario, un coltivatore di 46 anni di Campobello di Licata, una volta scoperta l'amara sorpresa quando è tornato in Contrada Grazia, a denunciare l'accaduto ai carabinieri della stazione di Naro. I militari dell'arma stanno adesso cercando di risalire agli autori del gesto e c'è da capire quale possa essere il movente alla base di un atto del genere, ma per il momento non sono stati forniti ulteriori dettagli.